Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo con la cronaca aggressione ai danni di un sessantenne, la polizia ha denunciato sei giovanissimi. E' accaduto lo scorso primo dicembre nella centralissima piazza Sant'Agostino dove l'uomo si trovava a spasso con il proprio cane al guinzaglio. Intorno alle 19 si è accorto che nella piazza c'era un altro cane di grossa taglia senza guinzaglio e senza museruola. Il sessantenne ha quindi invitato il proprietario, che poi è il risultato far parte del gruppo di giovani, a richiamare a sé l'animale affinché appunto i due cani non venissero in contatto. Un invito poco gradito dal gruppo di giovani che con fare provocatorio si è prima avvicinato al sessantenne, lo ha accerchiato e poi ha cominciato a spintonarlo fino a farlo cadere a terra. Purtroppo non si sono fermati qui, i giovani hanno infierito sul sessantenne con calci e pugni. Sono dunque intervenuti i ristoratori della zona, nel frattempo hanno allertato gli agenti di polizia che sono arrivati sul posto. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo, ha riportato un trauma cranico, una frattura costale, varie contusioni e un'abrasione al volto. I giovani in un primo momento sono riusciti a darsi alla fuga ma poi, grazie alle indagini della squadra mobile di Arezzo, sono stati individuati. Si tratta di tutti i ragazzi tra i 17 e i 22 anni di varie nazionalità, tunesina, italiana e albanese. Tutti confermano gli inquirenti già noti per precedenti episodi di questo genere. Dovranno adesso rispondere del reato di lesioni personali aggravate. Una serata movimentata anche in Casentino, dove una banda di ladri è finita fuoristrada dopo un rocambolesco inseguimento da parte dei carabinieri. Si sono date ad una precipitosa fuga con l'auto per sfuggire ad un controllo dei carabinieri, ma ne è nato un inseguimento per le vie della vallata al termine del quale i ladri sono finiti fuoristrada con la macchina finendo in un terrapieno e poi sono scappati a piedi nelle campagne svanendo nel lulla. È successo in Casentino, tra strada e poppi, quattro i componenti della banda che sono riusciti a sfuggire dopo una rocambolesca fuga con i militari alle calcagne. I carabinieri nell'auto hanno trovato numerosi attrezzi da scasso, sono così riusciti a risalire anche ad un prestanome irreperibile in Italia che è stato denunciato per aver intestato fitiziamente ben 24 veicoli nel milanese. Le auto, a lui riconducibili, erano già state individuate in provincia di Monza Brianza, Brescia, Piacenza e Mantova sempre nell'ambito delle indagini relative a rapine e furti con destrezza, in particolare quelli con la tecnica dell'abbraccio. Adesso sono in corso le indagini dei carabinieri per stringere il cerchio attorno ai quattro malviventi. Sono stati sempre i carabinieri dopo le ricerche lampo ad arrestare un ricercato che dovrà scontare nove anni di galera per aver accumulato tra il 2013 e il 2018 una serie di condanne per furti, possesso di arnesi atti allo scasso e colpi che ha commesso tutti nel territorio aretino. Adesso si trova presso il carcere di Arezzo. Spostiamoci adesso invece a parlare della centrale 118 per i sanitari dell'emergenza urgenza. saranno giorni sì di festa ma soprattutto di super lavoro. Se fai Natale non fai Capodanno e viceversa, per cui ormai le nostre famiglie sono abituate a vederci a corrente alternata e questo è il nostro lavoro, lo facciamo all'entusiasmo di sempre, ci piace farlo e a volte Natale si sta sul pezzo a garantire i nostri cittadini. Saranno giornate di lavoro questi giorni di festa a cavallo del Natale, del Capodanno per gli operatori del 118 aretino. Saranno vicini alla popolazione come sempre e ci sarà un rinforzo dal punto di vista sia degli operatori che dei mezzi di soccorso. Il Covid si sta un po' di attenuando ma sta arrivando una bella influenza, il picco dovrebbe essere proprio nelle festività. Siamo pronti perché in qualche modo raddoppiamo anche alcuni servizi, qualche ambulanza in più, qualche sanitario in più in servizio perché prevediamo un bel picco e già abbiamo avuto delle avvisaglie nei fronti soccorsi e comunque hanno avuto un aumento di accessi intorno al 20-30% e questa cosa qua probabilmente durerà per tutte le festività. Qual è il consiglio che si sente di dare alla popolazione nel comporre comunque il numero dell'emergenza durante questi giorni così particolari? Ma io prima ancora di comporre il numero dell'emergenza della popolazione vaccinatevi per favore, i vaccini non sono uno scherzo. Quello del Covid ci hanno salvato tante vite e quello dell'influenza ci salva tanto. Gli anni precedenti non abbiamo avuto un'influenza perché portavamo la mascherina. Quindi chi comunque ha sintomi eccetera mette la mascherina, chi comunque sta in posti sopra affollati eccetera mette la mascherina, chi è fragile mette la mascherina. Non è una cosa, un gioco mettere o non mettere la mascherina, vuol dire proteggere se stessi e gli altri. Che cosa si sente di dire ai suoi ragazzi che saranno al lavoro? Una cosa semplice, grazie, perché è la cosa più semplice del mondo ma soprattutto una pacca sulle spalle perché ogni tanto fa bene anche di dire che sono bravi, che sono competenti, che sono empatici, che comunque riescono a dare il meglio di sé sempre e comunque. Avvicendamento al comando dei vigi del fuoco di Arezzo dal 19 dicembre, l'ingegnere Roberto Buonfiglio è il nuovo comandante. Prende il posto dell'ingegnere Pietro Vincenzo Raschillà, ha partecipato a diverse emergenze nazionali dal 2006 ad oggi, tra cui il terremoto dell'Aquila e l'emergenza anche della Costa Concordia nel 2012. Nel 2019 è stato insignito della nomina di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana ed è autore di 40 pubblicazioni scientifiche. Oggi i vigili del fuoco del comando di Arezzo hanno anche ricordato la tragica scomparsa a soli 27 anni del vigile Filippo Bertini caduto dal viadotto dell'AE45 tra Verghereto e Val Savignone nel 99 durante le operazioni di soccorso per la rimozione di un tir bloccato dalla neve. Filippo è stato ricordato prima in sede centrale, poi alle 11 invece una rappresentanza del comando si è diretta proprio sul posto con la sorella di Filippo Valeria. E adesso invece parliamo di una protesta dei genitori dei bambini che frequentano la scuola primaria e dell'infanzia di indicatore che hanno raccolto ben 108 firme per chiedere maggiore sicurezza nella parte diciamo del momento in cui vengono accompagnati o comunque ripresi da scuola i ragazzi. Al centro della questione appunto l'inaccessibilità del parcheggio secondario. I genitori hanno così scritto la dirigente scolastica e l'assessore Alessandro Casi una questione finita anche in una polemica politica sollevata dai consiglieri del PD Caporali e Caneschi sulla presunta negligenza del comune in merito alla gestione dei rapporti e degli accordi proprio con il privato che è proprietario dell'area dove appunto insiste il parcheggio in questione. Parliamo adesso invece di treni a velocità supersonica. L'aretino Gabriele Gresta oggi ad Arezzo appunto per presentare il suo progetto avveneristico. Immaginatevi una capsula piena di persone. La mettete dentro un tubo, togliete l'area dal tubo così non c'è attrito e a questo punto potete muovere la capsula dal punto A al punto B a quasi la velocità del suono utilizzando una piccola frazione di energia. Sembra fantascienza invece l'abbiamo costruito. Abbiamo un prototipo a Tolosa e ora stiamo realizzando uno a 10 chilometri in scala reale. Si chiama Hyperloop ed è il treno supersonico che dovrebbe permettere di coprire in pochi minuti centinaia di chilometri. A presentarlo al Circo L'Artistico di Arezzo il presidente Bipop Gresta fondatore dell'americana Hyperloop TT e CEO di Hyperloop Italia. Un progetto nato da un'idea di Elon Musk. Quindi l'abbiamo chiamato e gli abbiamo detto lo vogliamo fare noi Hyperloop visto che lui aveva detto che non l'avrebbe fatto. Lui ha dato l'ok e abbiamo fondato Hyperloop TT che in otto anni è diventata la più grande società di sviluppo di Hyperloop nel mondo. Considerato a livello internazionale un esperto di mobilità avanzata e tecnologie della quarta rivoluzione industriale, Gabriele Gresta conosce molto bene la città. Ha infatti frequentato l'istituto tecnico commerciale Buonarroti all'epoca ragioneria dove ha fatto ritorno in questa visita in terra retina. Arezzo l'ho nel cuore, io ho passato tutta la mia gioventù, i miei studi. Io credo di aver costruito quello che ho costruito grazie anche alle esperienze che ho avuto ad Arezzo perché sia dal punto di vista artistico che imprenditoriale ho imparato tutto qui. Il progetto dell'aveniristico treno supersonico è stato rilanciato adesso dal governatore del Veneto. Mi ha chiamato il Veneto per realizzare la prima linea al mondo di Hyperloop con un bando che hanno emesso di 800 milioni. Abbiamo partecipato alla gara con Leonardo, WeBuild e la mia americana e poi la società che ho fondato in Italia per appunto realizzare il primo Hyperloop. Quindi nelle prossime settimane si apriranno le buste, vedremo se abbiamo vinto questo bando e inizieremo a costruire il primo Hyperloop della storia in Veneto. Nel borgo di Rondine una nuova generazione di studenti in questi giorni è ufficialmente entrata a far parte della World House, il programma biennale della cittadella della pace di Arezzo che promuove un percorso di formazione e convivenza per giovani nemici provenienti dai luoghi di guerra e a cui gli echi del conflitto bellico sono ancora forti. Tra loro anche coppie di ragazzi che provengono dalla Russia e dall'Ucraina che con coraggio hanno accettato la sfida di entrare appunto in un percorso di confronto con l'altra parte in un momento davvero così delicato e doloroso insomma dove sappiamo che ancora il conflitto non si sta purtroppo concludendo. Cambiamo decisamente pagina e parliamo di una storia molto singolare che riguarda un amico a quattro zampe, il gatto Giuliano per il quale si è scatenata una vera e propria gara di solidarietà. Sentiamo perché nel prossimo servizio. Lui è abituato a consolare le persone colpite da lutto e quando si è ammalato in tanti hanno voluto stargli vicino. È la storia del gatto Giuliano che arriva da Castiglion Fiorentino il micio davvero speciale ha circa sette anni e tre anni fa è arrivato nella sede della misericordia malato. Una volta curato dal veterinario a prendersi cura di Giuliano sono stati i volontari. Da quel giorno il gatto ad ogni vecchia funebre non ha mai mancato di avvicinarsi alle persone che vedeva soffrire facendosi accarezzare. Qualche settimana fa però il micio ha iniziato a non star bene e il veterinario ha così scoperto che aveva tre calcoli di oltre un centimetro ed era fondamentale un'operazione. È stato così lanciato un appello su Facebook per raccogliere quasi 400 euro necessari per il delicato intervento. Le persone si sono subito attivate per il gattino consolatore. In poche ore la cifra è stata così raggiunta grazie alle offerte. Lo scorso giovedì Giuliano è stato operato ad Arezzo, sta bene ed è stato adottato dal negozio di articoli per animali che aveva lanciato l'appello. Ultima settimana di shopping natalizio. Secondo Confesercenti la spesa media pro capite degli aretini è più bassa rispetto allo scorso anno e si dovrebbe aggirare intorno ai 200 euro a testa. Questa appunto la stima del direttore di Confesercenti Valeria Alvisi che sottolinea l'interesse registrato tra i consumatori che però hanno comunque voglia di fare acquisti nonostante appunto la crisi e la difficile congiuntura internazionale. C'è comunque un calo, dice appunto Alvisi, rispetto al 2021 legato al crollo dei consumi causato dalla pandemia, dall'inflazione che ha ridotto la spesa delle famiglie e è proprio anche la preoccupazione del caro Bollette. Resta comunque la voglia di regalare e di regalarsi momenti da dedicare appunto alle compere. E proprio questa è stata la domanda che il nostro Massimo Gianni ha fatto agli aretini in una puntata decisamente natalizia del suo Bobo 7. Sentiamo. Salute! Salute! Amore! E tanta felicità per tutti. Che finisca anche la guerra perché qui non ne possiamo più di queste situazioni. Le guerre. Nel 2022 ancora stiamo a discutere di una guerra? Eh bravo! Purtroppo sì. Purtroppo sì. Perché probabilmente sono scelte prese da altre persone, non dai cittadini comuni, dal popolo. Prese da persone che hanno altre idee della vita del mondo. Poi da che mondo è mondo? Purtroppo la guerra è sempre scatenata dagli uomini. Ma perché non comando alle donne? Io me lo sono sempre chiesto. Beh, non so. Forse perché anche le donne avrebbero piacere che gli uomini comandano, ma gli uomini, no? Quelli in qualche modo, gli uomini veri. Questo signore qui accanto che è molto conosciuto, che è un attore. Fa già ridere, guarda. Io rido. Quando parlo con te rido. Cosa vorrei a Natale, Massimo Caro? Tante risate, per esempio. Il buon umore. E poi, se me lo chiedi per Fernando, ti so rispondere con maggior precisione. Per la città di Arezzo, cosa chiedo? Forse meno caos e una maggior cura. Perché devi sapere che io sono stato, sono tornato ieri, da mesi di tournée, e ho potuto visitare cittadini analoghi ad Arezzo, che sono veramente tenute come degli scrigni. Quindi io sono felicissimo. Ci sono le buche. Non ci sono le buche, le facciate delle case sono perfettamente restaurate, tutto in ordine, non ci sono cartacce in terra. Io dico che la nostra città è potenzialmente meravigliosa, ma potenzialmente. Quindi io mi auguro che il Natale porti all'amministrazione, a tutti noi cittadini, una voglia di risollevare un po' le nostre sorti. Perché non è che possiamo essere solo felici di quello che accade durante questo periodo natalizio, questa grande orda di gente che va ai mercatini tirolesi, con la speranza che conoscano il Tirolo, perché se pensano che il Tirolo sia questo, si perdono anche ben altro. Quindi io mi auguro questo. Un po' di energia, dai. Fernando Maraghini, invece, come attore e regista, cosa si augura? Guarda, come attore sto vivendo il più grande regalo che non so se lo merito, perché sono in tournée con il compleanno, testo dipinte per la regia di Peter Stein, quindi cosa voglio di più? Fino a marzo, dal primo di settembre che siamo in giro. Come padre vorrei che mio figlio scegliesse una buona scuola, visto che va alle superiori, e siamo ancora sotto il periodo... No, siamo nel periodo natalizio, non sa che cosa fare, quindi vorrei che da qui alla mia ripartenza si aggiustassero queste cose qua. Di cosa si aspetta da questo Natale? Tanta serenità, sicuramente, la gioia che manca, la gioia nella gente, non c'è più l'armonia, e delle cose semplici... Che non sono più apprezzate. Bravo, che non sono più apprezzate le cose semplici, sì. Tornare come era una volta. E allora, la puntata di Bobosetta andrà in onda integralmente questa sera, subito dopo il nostro telegiornale. Parliamo ancora di regali di Natale, ma questa volta solidali, a favore, in questo caso, del Calcite, che è appunto sceso in campo per una nuova raccolta fondi. A una settimana da Natale abbiamo voluto fare questa presenza appunto qui nella piazza dove abbiamo la nostra sede e proponendo, promuovendo appunto le coperte fatte da questo gruppo Mani e Cuore, i calendari che ha fatto la Sraperline con sua figlia e nello stesso tempo ovviamente raccogliamo anche dei fondi che sono sempre utili per il Calcite, per le sue innumerevoli donazioni. Il titolo del calendario è Nati con la coda e appunto parla degli animali domestici che per tante persone sono veramente di compagnia. Il loro valore è dovuto al fatto che sono delle mani di tante donne e senza dimenticare, per me è una cosa eccezionale, la casa Pia, gli anziani che hanno lavorato, i bambini della scuola che hanno fatto tante bustine colorate dove mettere le coperte. Ecco, è il coinvolgimento di tanta gente, è il valore grande di questa cosa, per il fine del Calcite, che non lo dimentichiamo. Ecco, tutto quello che noi facciamo ormai è destinato al Calcite, ma in particolare alla senologia. Siamo alla pagina della cultura, al Teatro Mecenate di Arezzo, in scena, donne in opera, la lirica racconta l'emancipazione femminile. L'arte delle muse era l'insieme della poesia, della musica, della danza, unita in una sola rappresentazione, in cui le varie arti si adeguavano reciprocamente. Un viaggio nell'universo femminile attraverso le grandi opere liriche dell'Ottocento italiano. Al Teatro Mecenate di Arezzo, lo spettacolo promosso dalle acli, donne in opera, una riflessione sulla difficoltà di emancipazione, sulle conquiste femminili nel corso della storia, attraverso le musiche e le parole di Puccini, Verdi e Don Inzetti. Sempre più, secondo me, dobbiamo andare in questa direzione, col coinvolgimento delle istituzioni, ma anche del mondo che cura la formazione, che cura l'educazione e la cultura. L'iniziativa ha rappresentato anche la conclusione di un laboratorio con gli alunni dell'Istituto 4 Novembre. Una bella sorpresa anche da presti di vedere come la musica lirica, che sembra un mondo lontano dagli interessi dei ragazzi, in realtà portata dal vivo in modo laboratoriale nelle classi, ha suscitato invece un interesse immediato e sorprendente. E' un'esperienza bellissima. Io sono abituato a lavorare con direttori d'orchestra, con musicisti, con solisti, ma penso che questi tre mesi in questo progetto siano state una grandissima esperienza anche per me. ho ricevuto tanto, ho cercato di dare tanto a loro e penso che sia per loro sia stato aperto uno squarcio sul mondo della musica, della classica, della lirica. Ed è giusto che conoscano la grande musica, la grande tradizione italiana, i grandi compositori per mettere a fuoco il talento che hanno. Un altro concerto a tema natalizio, quello del coro Voci Strane che vi raccontiamo nel prossimo servizio. Sono dei brani natalizi dal repertorio classico e anche contemporaneo, moderno. Si va da Jingle Bells a Ottenenbaum, quindi insomma ce ne sono tanti di brani natalizi. I brani della tradizione natalizia nel salone del convitto nazionale Vittorio Emanuele II. Aspettando il Natale è stato infatti il titolo della serata che ha avuto come protagonista il coro Strane Voci diretto da Luisella Orzini ed accompagnato al piano dal maestro Matteo Trimiglio. A nome della Filarmonica Guido Monaco perché il coro è associato alla Filarmonica Guido Monaco e quindi il presidente che è il professor Luciano Tagliaferi ci ha invitato in questa prestigiosa sala con un bel palco, un bel pieroforte a mezza coda e faremo tutti i cambi della tradizione natalizia. Noi abbiamo questo bellissimo salone che forse è uno dei più bei saloni nel centro storico di Arezzo e allora va sfruttato, va utilizzato vogliamo valorizzare la nostra struttura il convitto nazionale di Arezzo che è forse una delle realtà più belle della città abbiamo il coro Strane Voci che è collegato alla Filarmonica Guido Monaco di cui io sono il presidente e quindi insomma viva la musica e viva il Natale! E siamo allo sport, al calcio domani arriva il comunale il Poggi Bonzi con il miglior attacco del girone mister indiani nella consueta conferenza stampa pre-partita l'ha definita appunto una partita spartiacque sentiamo! Mister indiani quella di domani è stata definita la partita spartiacque Sì ma nel senso spartiacque nel senso è chiaro dopo due mezzi passi falsi bisogna ripartire bisogna ripartire sapendo che è una partita più difficile delle ultime due in dove abbiamo fatto mezzi passi falsi in questo senso contro una squadra più forte vediamo se se rifacciamo bene tipo Pian Castagnaia Contro le squadre forti L'Arezzo si è sempre esaltata ha trovato difficoltà con le squadre apparentemente più deboli C'è un motivo c'è un motivo perché gli altri come noi vogliono tentare di fare la partita alla pari nostra mentre invece con le squadre più deboli la fanno fare esclusivamente a noi pensano solo a difendere e noi abbiamo problema domani immagino ci saranno alcuni correttivi rispetto a sabato pomeriggio correttivi nel senso di cambiamento dell'undici iniziale sicuramente perché mi sembra anche a distanza sette giorni non è mai ripartita la stessa formazione della settimana prima figuriamoci che stavolta siamo a quattro giorni che idea si è fatto di questa Arezzo qual è il vero volto della squadra Maranto il vero volto della squadra Maranto basterebbe avere cinque gol in più con cinque gol maggiori in fase cioè cinque gol fatti in più rispetto a quello che abbiamo fatto l'Arezzo sarebbe stato lo stesso come ora però sarebbe esprimoclassifica siamo a cinque punti che percentuale dà all'Arezzo di riagganciare la prima in classifica ad oggi ad oggi io sono mancano 18 giornate alla fine del campionato figuriamoci se sono preoccupato per cinque punti di risalto anche questo è l'ultimo dei problemi aumentiamo la facilità realizzativa chiudiamo con una notizia che riguarda invece il basket una festa di Natale per i bambini e le bambine della scuola basket Arezzo giovedì 22 dicembre 200 cestisti del mini basket Nova Verta si ritroveranno tra le 17 e le 19 al parasport extra Mario Dagata per una giornata di giochi sfide e sorprese che anticiperà appunto la pausa per le feste l'iniziativa si configura come un'occasione di ritrovo per atleti famiglie istruttori e dirigenti proprio per condividere la comune passione appunto per questo bellissimo sport è tutto per questa edizione del nostro telegiornale vi lascio alla puntata di Bobo 7 condotta da Massimo Gianni e poi a tutti i nostri programmi grazie arrivederci